benvenuti al tg list della giunta regionale della basilicata la task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri 21 aprile sono stati effettuati 570 test per l'infezione da covid 19 di questi 566 sono risultati negativi e 4 positivi i casi positivi riguardano 3 il comune di matera 1 il comune di grassano con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 232 ieri erano 245 ai quali vanno aggiunte quattro persone risultate positive e sottratte le 17 persone che ieri sono risultate guarite dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 8040 tamponi il totale dei tamponi risultati negativi e di 7684 ai 232 positivi vanno aggiunti 24 persone decedute 9 di potenza 2 di paterno 1 di spinoso 1 di moliterno 1 di villa d'agri 2 di rapolla 1 di irsina 1 di montemurro 1 di pisticci 2 di matera 1 di san costantino albanese 1 di avigliano 1 di tossi 98 persone guarite un paziente di gravina di puglia riscontrato dall'asma un paziente di gioia del colle un paziente di padura buon abitacolo riscontrato dall'azienda ospedaliera san carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni residenti in basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 72 così suddivisi nell'azienda ospedaliera san carlo di potenza 20 in malattie infettive 4 in terapia intensiva e 13 in pneumologia nell'ospedale madonna delle grazie di matera 32 in malattie infettive e 3 in terapia intensiva i lucani in isolamento domiciliare sono 160 tutti i test positivi verranno inviati all'istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza i dipartimenti di prevenzione delle asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive il prossimo aggiornamento domani 23 aprile alle ore 12 domani 23 aprile alle ore 12 domani 23 aprile alle ore 12 Grazie a tutti.